Da oggi al 21 novembre presso l'auditorium del Palazzo Gil, la Fondazione Molise Cultura presenta la prima edizione del festival About the Future, uno sguardo intorno al futuro, un cartellone ricco di eventi ed attività intersettoriali all'interno delle quali sarà possibile vedere e sentire le più aggiornate ricerche e le sperimentazioni tecnologiche prodotte dalla cultura contemporanea. Intelligenza artificiale, realtà virtuale, piattaforme informatiche, tecnologia e cultura del digitale, new media art, arti performative, mercato di riferimento dei festival e dei progetti analoghi in Europa. About the Future vede la collaborazione attiva di importanti organizzazioni, enti nazionali e regionali. Il progetto patrocinato dall'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, questa mattina ha visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Tiberio di Termoli. Quale orizzonte li aspetta? Lo abbiamo chiesto alla dirigente scolastica Concetta Cimmino. È un orizzonte che è ricco di sfide e sono lanciate a loro, ma in primis ai grandi. Noi abbiamo la necessità di rendere l'attività didattica, l'insegnamento al basso ogni tempi. E allora questa rete nazionale, il Tiberio è capofila, ha l'obiettivo di introdurre all'interno dell'insegnamento e della didattica, delle tecnologie digitali che sono poi quelle che i ragazzi usano. Basta pensare a Siri, ad Alexa, quindi alle chatbot, perché è di questo che stiamo parlando, oppure alle start-up. La scuola deve trovarsi pronta a rispondere alla sfida che poi è quella che nell'orizzonte si prospetta. Un orizzonte che però è vicino, non è lontano. In genere quando si parla di orizzonte si pensa a qualcosa che è lontano o che non è raggiungibile e ci può sfuggire. Invece il progetto che il Ministero ha promosso, questo orizzonte è vicino. Noi consideriamo la possibilità di studiare il Tiberio Centro con la rappresentità della scalabilità. Abbiamo un problema di natura economica e la pandemia... Grazie a tutti.